Pocket Party al Circolo Canottieri, una serata di successo dal tocco decisamente glam e mondano. Amici di Lula Carratelli, che non ha lasciato nulla al caso, curando ogni dettaglio del suo party, attori, artisti e volti modi del jazz e cittadino, si sono ritrovati sulla terrazza del Circolo. Cocktail colorati, firmati bar in movimento e punti food, Mu, Giappo e il Gigante Bianco. Tra loro gli artisti Patrizio Risco, Francesco Paglantoni, Lina Carcuro, i pubblicitari Gianluca Trebbi, Love Studio, Yvonne Fabris, Studio Fabris, Verena Celardi e Nanni Rezzi, gli imprenditori Marcel Martiglio, ovvero Bruno Petrillo con la moglie Serena Forlani, Event Planner e Giuseppe Prudente, l'organizzatore di eventi Diego Di Flora, il patron del Cucae Massimiliano Neri, l'imprenditrice Anna Maria Romano, la PR amica di Lula Stefania Moretti. Non potevano certo mancare le blogger, hanno accettato l'invito di Lula, Fabrizia Spinelli, Cosa Mi Metto, elegante e bellissima, in dolce attesa con il marito Luca Pistone, e Rossella Padolino, The Fashion Twice, la blogger dall'anima rock. Momenti di spettacolo con le ballerine nelle sfere, il gran finale con cupcake personalizzati con le copertine di Pocket e una moe chanton tutta per Lula, con una scintillante scritta in Swarovski, Pocket Napoli. La copertina è con Alexandra Dinu, è la copertina del numero di giugno. Adesso stiamo preparando il prossimo numero che uscirà a metà luglio, con il quale poi ci salutiamo, vi diamo buone vacanze e ci rivediamo poi a fine settembre. In bocca al lupo Lula, un bacione! Lula sei fortissima! In bocca al lupo! Siete splendide, come cazzo deve venire?